Nulla è come il rogo di Smirne, è mai accaduto al mondo, è stata bruciata e ridotta in cenere, così che mal ha espresso tutto il suo astio. Smirne, povera madre Smirne, dov'è la tua bellezza bruciata dalle fondamenta, schepasta e besestnia? E' stata bruciata anche una scuola, era una scuola femminile, è stata bruciata anche un insegnante, che aveva la pelle bianca come l'ho. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.